Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 13 maggio. Vi ricordo a tutti quanti che questa sera abbiamo Quarta Repubblica alle 21.30 sul Rete4. I titoli dei giornali, soltanto il Corriere della Sera oggi, che sembra più va avanti Repubblica con Verdelli, incondivisibile quello che scrive Repubblica, e più leggi il Corriere della Sera che ti sembra un giornale di un secolo fa, nel senso che è paludato, un po' tristanzuolo. Vabbè, comunque sia, oggi sul Corriere della Sera, giornale istituzionale per definizione italiano, qual è il titolo del Corriere della Sera di oggi? Governo alla resa dei conti, un titolo che avrebbe potuto fare negli anni 80, 70, 90, insomma è un titolo buono per tutte quante le stagioni, c'è sempre un governo e c'è sempre una resa dei conti. Ovviamente è anche vero quello che dice il Corriere della Sera, ma finché questa resa dei conti non c'è, posto che ce la raccontano da due mesi, è la cosa più noiosa del mondo. L'unica cosa interessante, se vogliamo possiamo dire che il prossimo Consiglio dei Ministri è fissato per il 20 di maggio, quindi soltanto in quella data riusciremo a capire se litigheranno o no sui fatti concreti, perché sarebbe l'ultimo Consiglio dei Ministri prima delle elezioni del 26 maggio, che è la giornata in cui si vota e fino a quel momento dunque tutti, io non ci posso credere come Maurizio ora che mi scrive su Instagram, che questi poi alla fine non stiano al governo e litighino per prima delle elezioni. Fazio perde tre puntate, a me sembra una cosa incredibile, a beneficio di questi prossimi lunedì, a parte quello ci saranno due puntate di Vespa, immarcescibile, giustamente perché è un ottimo professionista, e una puntata speciale, non ho capito un film. Allora vedete, io penso che non c'è stata nessuna polemica quando mi fecero fuori dalla Rai, quando Renzi mi fece fuori dalla Rai, anzi poca roba, qualche giornale di destra, il foglio di Cerasa che disse che è sbagliato chiudere virus, niente di che. Su Fazio ovviamente si gonfiano pagine e pagine, quindi uno potrebbe avere una certa invidia nei confronti del giornalista che riesce a fare di sé stesso un martire, ma resta secondo me un errore, quello della politica che cerca di pensare che può chiudere, spostare un programma senza nessuna attitudine editoriale, cioè se questa cosa non l'avesse indotta attraverso gli insulti Salvini, ma l'avesse decisa la Rai, io non mi sarei scandalizzato. Ma avendolo fatto la Rai in concomitanza con le richieste di Salvini, insomma, qualche cosa uno si deve chiedere. È vero che Salvini è editore della Rai, ma allora mettiamola chiara che la Rai è in mano ai politici. Mettiamolo come uno statuto, come una cosa sicura, un po' come quel codice etico che mi farà brividire quello sì davvero fascista, cioè sul Corriere della Sera di oggi, che dovrà esserci nel Salone del Libro di Torino. Allora, io mi chiedo e vi chiedo, vi sembra normale che ci sia un codice etico per lo statuto del Salone del Libro di Torino? Dovrebbe avere un solo articolo, ma così non sarà. Chiunque pubblica un libro può venire allo Salone del Libro di Torino, ma così non sarà, perché ovviamente questi diranno che tipo di libri è una roba che, come scriveva Siti due giorni fa in una bella intervista al Fatto Quotidiano, quella sì è un atteggiamento dello statuto etico, lo stato etico è proprio lo stato fascista, non in questo caso comunista. Lo stato etico è lo stato fascista, è uno stato che a noi liberali dovrebbe fare orrore, ma tutti zitti e muti perché si tratta. Oggi non so chi lo scriveva su quale giornale, tutti a piagnucolare per Radio Radicale, io sono uno tra di questi, ma è singolare che quelli che piagnucolano per Radio Radicale siano anche quelli che non piagnucolano per il fatto che ci sia stata fatta una censura al Salone del Libro di Torino per un'intervista fatta a Salvini da una casa editrice, da una giornalista, da una casa editrice che viene considerata vicina a Casa Pound. E beh, non mi sembra che sia stata chiusa Casa Pound. Detto questo, la notizia del giorno è il cardinale Elemosiniere che si cala in un tombino e riaccende la luce in un palazzo occupato più o meno qua al centro di Roma. 300.000 euro di bollette non pagate. Questo Robin Hood, come titola, godendo come un riccio del Papa, godendo come un riccio la Repubblica e tutti quanti i giornali progressisti che sono lì con Robin Hood, devo dire francamente che basterebbe, vi dico soltanto questo, andarsi a leggere sul messaggero che conosce bene le cose di Roma, cosa succede in quel palazzo, come è stato occupato quel palazzo. Il fatto che quel palazzo occupato sarebbe dovuto essere un albergo, è proprietà di una banca, ma diventava un fondo di un albergo, avrebbe dato lavoro a 150 famiglie che non lavorano, ospita 400 persone, ci sono stati dei morti, c'è una discoteca a pagamento che sta rovinando il vicinato perché è una discoteca in cui ci si droga, ci si beve, si fa quello che si fanno in queste spese di underground nel centro della città, pagano il pizzo a quelli che hanno occupato, secondo il messaggero, gli occupanti oggi. Non è la storia di Robin Hood, è la storia di un prelato Elemosiniere che per far favori a persone che vivono ovviamente nel disagio crea un disagio ancora maggiore al 99,9% della popolazione italiana. Complimenti caro prete Elemosiniere. Posso dire a voi, a me mi fa orrore questa cosa del prete Elemosiniere, perché se il prete Elemosiniere voleva fare l'elemosina, come dice giustamente oggi Nordio, c'era tantissime possibilità. La prima è pagare la bolletta di 300 mila euro, posto che comunque avrebbe pagato la bolletta per delle persone che hanno occupato un palazzo contro legge. Ma vabbè, diciamo che quello l'avrebbe potuto fare e non rompere i sigilli del coso. Secondo, ci sono 400 persone che vivono in un palazzo occupato nel centro di Roma, non mi sembra un gran problema. Le si porta qua dalle suore carmelitane a Laventino, lì si mette, Nordio indica, se hai degli immobili, mettili nei tuoi immobili, se questo è l'orribile situazione in cui si trovano i poveracci. Questa non è una di quelle frasi fatte da talk show. Soltanto Sky, che ho visto questa mattina, può ancora fare questi servizi. Ah, qui c'è il teatro, qui i giovani imparano a capire, qui si va a scuola, ma c'è la discoteca. Sky, non te ne sei accorto della discoteca che c'è lì, che si entra dalla parte di dietro e va a pagamento? Sky, non ti accorgi che è quel palazzo? E se occupassero il palazzo di Sky, mia giornalistina bella contenta, là tutti pettinatini, tutti perfettamente politicamente corretti, uno più gay dell'altro, un altro più corretto dell'altro, l'altro che non dice mai una cosa meno femminista dell'altro. E se vi occupano il vostro palazzo? Siete contenti? Voi che state là a lamentare, andare dal Papa perché vi hanno portato da Roma a Milano? Oddio, ci hanno portato da Roma a Milano! Poi questi servizi, questi piagnistei, perché quello sta occupando. Mardoc, il vostro proprietario è lo squalo, anzi non era il vostro ex proprietario. Mi fa impazzire la narrativa di questa chiesa che ha il suo elemosiniere, che si cala dentro il... E se si fosse fatto male? E se avesse sbagliato? Oh, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma ancora si discute? Robin Hood, dice Repubblica. Il pizzino di Renzi, cioè il fatto che ieri Renzi abbia detto che 49 milioni siano stati usati da Matteo Salvini per fare fake news, ritorna sul giornale, il pizzino di Renzi, la bestia leghista fabbricata con i soldi rubati. Questa è la tesi della Repubblica che continua. E in realtà, un po' come quello che dice il giornale, un po' come D'Alema nel 2009 fiutò col Cavaliere l'arrivo delle procure, così stanno un po' gufando l'arrivo della giustizia non orologeria nei confronti della Lega. E vedrete sui 49 milioni, sulla bestia di Morisi, su tutte queste minchiate che semplicemente loro sanno fare meglio degli altri e anche dei giornali, che mi sembra che la carta stampata la riescono a gestire non così bene. Commissario di Mogherini, finalmente se ne va, questo è uno dei temi di oggi, non mi ricordo di quale giornale, mi sembra della verità o di libero, che in effetti uno se ci pensa è questo fenomeno dei competenti, di Renzi, quello che ci ha governato nel passato, eccetera. Berlusconi mise Labbonino, ahimè, a fare un suo messaggio, all'epoca avevamo due commissari, però insomma scelse sempre persone, purtroppo Monti, insomma ne ha commesse anche lui di errori, se pensate gli uomini che mise alla Commissione Europea. Poi a un certo punto, mi ricordo di Tajani, che aveva il suo miglior ruolo, cioè il commissario per le piccole industrie. Noi abbiamo preso il commissario per la politica estera, una cosa che in Europa non esiste, questa è stata la genialata per contare di più in Europa da parte di Renzi. Ancora ridono gli europei, abbiamo fottuto Renzi che fa tanto il fichetto, cioè la minchiata dei dossier fu data all'Italia e a Renzi e alla Mogherini, che peraltro manco più si parlava con Renzi perché nella politica migratoria non l'ha seguito per niente, se non mettersi il velo quando andava in Iran e oggi facciamo sempre noi il governo dei competenti. Io vorrei Moavero, che oggi è ministro, Gentiloni, vorrei Renzi, li vorrei chiedere, scusatemi, anzi glielo chiederò, ma scusatemi, voi che eravate i competenti, avete piazzato la donna meno competente, meno utile per l'Italia in Europa, di cui oggi finalmente ci liberiamo. Vabbè, una volta gli ha chiesi pure a Renzi. I grillini vincono in Sicilia e fottono il centrodestra e soprattutto la Lega e il centrodestra che non sono uniti a Caltanisetta, motivo per il quale ora Di Maio sta lì a Caltanisetta a godere come un riccio perché una volta che vince vuole metterci il cappello su e del codice etico del Salone del Mobile e del Libro ve ne ho parlato e di tutto il resto ne parleremo questa sera con tanti ospiti Di Maio, Meloni, Calenda, tanti ospiti in studio. Ciao!